Non manca più tantissimo al debutto di Final Fantasy VII Rebirth, che arriverà il 29 febbraio 2024. Il gioco, ricordiamo, sarà esclusivo a PC5, ma stavolta solo per tre mesi. Nei giorni scorsi il nostro Silvio Mazzitelli ha avuto la possibilità di provarne due parti per circa un'oretta, e io sono qui per raccontarvi com'è andata. La nostra prova di Final Fantasy VII Rebirth ha visto due parti ben distinte. La prima, dalla durata di una ventina di minuti, era ambientata in un flashback del passato di Cloud, in cui l'ex-soldier raccontava dell'incidente avvenuto a Nibelheim e che aveva coinvolto anche Sephiroth. In questo caso siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal fatto che Sephiroth sia completamente giocabile con un suo parcomosse davvero impressionante. La seconda parte della demo era invece ambientata nella regione dove è situata la città portuale di Junon, in cui è presente un'importante base militare della Shinra. Questa seconda demo era incentrata più sull'esplorazione che sulla storia, così da mostrarci soprattutto come sarà muoversi in questo nuovo mondo di gioco che ora sarà molto più aperto rispetto alle coupe strade di Midgar. Dal poco che abbiamo visto della storia di questo Final Fantasy VII Rebirth, le prime impressioni sono positive. La scrittura, l'adattamento e l'ampliamento delle scene dell'originale sono a livello della prima parte del remake, ossia quella in cui la trama veniva trattata con rispetto e i cambiamenti risultavano intelligenti. Alcuni dialoghi ci hanno persino sorpresi, ad esempio quando nella parte sul Monte Nibel Cloud chiede a Sephiroth come funziona la magia tramite l'utilizzo delle materia, una cosa che effettivamente ci siamo sempre chiesti un po' tutti. Inoltre abbiamo apprezzato come il carattere di Cloud in questo flashback appaia diverso. Chi ha giocato l'originale capirà subito perché. Anche l'arrivo a Juno nei primi contatti con i suoi abitanti riescono a caratterizzare al meglio il mondo di gioco, con dei volti riconoscibili e che hanno un'importanza per la comunità locale, senza che siano stati inseriti soltanto dei personaggi non giocanti, senza nome e dotati di una singola frase fatta, come si faceva in passato. Per quanto abbiamo visto però il combat system è uno degli elementi più riusciti di Final Fantasy VII Remake e Robert lo riprende alla perfezione, arrivando perfino a migliorarlo. La struttura alla sua base è rimasta immutata in quel bellissimo ibrido che fonde perfettamente azione pura e active time battle dell'originale. Potremmo come sempre attaccare, schivare e parare gli attacchi nemici, mentre le barre dell'ATB si caricheranno in modo da poter poi utilizzare magie, oggetti e abilità speciali. Sarà anche possibile utilizzare ancora delle scorciatoie per le magie e le abilità più sfruttate, in modo da non spezzare troppo il ritmo dell'azione. Il combattimento ci è parso leggermente più veloce e molto più spettacolare da vedere, grazie anche al fatto che il gioco non si è più ancorato alla vecchia generazione. E' sempre presente anche la meccanica dello stagger, con cui è possibile estordire i nemici e infliggere loro più danno per un breve periodo di tempo. La grande novità che si aggiunge alle già tante opzioni in battaglia del primo capitolo è quella delle sinergie, attacchi combinati tra due membri del party. Avevamo già visto un prototipo di questa meccanica nel DLC Intermission, in cui Yuffie poteva utilizzare attacchi combinati con Sonon. Questa meccanica adesso è stata integrata molto meglio nel combat system, con ben due utilizzi differenti. Il primo è quello delle synergy skill, attivabili tenendo premuto il tasto della parata insieme a un altro tasto d'offesa, diverso a seconda del membro del party con cui si vuole eseguire l'attacco. Questi colpi sono molto veloci e possono essere eseguiti senza limiti. Esiste poi anche una versione più potente chiamata synergy abilities, accessibile solo dal menu dei comandi e che consuma per ogni personaggio alcune piccole tacche poste sotto la barra dell'ATB. Anche queste si caricano compiendo azioni offensive e dando vita ad attacchi sinergici molto più potenti e spettacolari, messi in scena tramite un breve filmato, un po' come succede per le limit break. Nella demo abbiamo anche potuto combattere utilizzando due nuovi personaggi, Sephiroth e Red XIII. Il tenebroso antagonista del titolo combatte con la sua lunga katana, Masamune, con cui può sferrare dei fendenti micidiali. Inoltre, mentre in parata, Sephiroth può effettuare dei perri degli attacchi nemici. Il potente guerriero è agile e letale in combattimento ed è in grado di muoversi a grande velocità sul campo di battaglia, riuscendo con il suo scatto ad arrivare al corpo a corpo anche con i nemici in volo. Red XIII invece combatte con i suoi artigli in maniera estremamente rapida, tanto che è quasi difficile seguirlo in movimento. La sua abilità speciale è chiamata Vengeance Mode e anche in questo caso si tratta di una barra che andrà caricata con gli attacchi normali e che una volta attivata ne aumenterà la potenza d'attacco e non solo. Per quanto riguarda la progressione, è stato confermato che in questo nuovo capitolo si ripartirà dal primo livello. Peccato quindi che non sarà possibile conservare nulla delle materie o delle abilità ottenute in precedenza. La gestione dell'equipaggiamento ci è sembrata molto simile a quella vista nel gioco precedente, anche se sia per mancanza di tempo che per limiti della demo non era possibile cambiare molto. L'equipaggiamento delle materie funziona esattamente come in passato, ma abbiamo ora notato delle nuove materie interessanti come Lightning and Wind, che una volta equipaggiata permette di utilizzare sia la magia Thunder che quella chiamata aero. In questo modo si riesce a risparmiare uno slot di materia su armi ed equipaggiamento, potendo avere due incantesimi diversi al prezzo di un solo cristallo equipaggiato. Per quanto riguarda la fase esplorativa, per quello che abbiamo provato e anche per quanto ci è stato detto, il gioco non avrà una struttura open world ma sarà diviso in grandi mappe aperte, una per ogni regione presente. Insomma, una sorta di fusione tra le aree dell'originale e la world map, che diventa più dettagliata nel delineare i dintorni di una città o di un dungeon. Junon aveva questa impostazione. Nella nostra prova, la zona che era possibile visitare era limitata appositamente per farci concentrare su un'area ridotta, ma da quanto abbiamo potuto vedere dalla mappa, nel gioco finale l'intera regione sarà piuttosto grande. Bisognerà certo verificare che le aree non siano vuote o piene di attività secondarie ripetitive, cosa che non c'è stato possibile capire solo da quest'anteprima. Una cosa che abbiamo potuto notare già da adesso è che tornano i Chocobo e che saranno il nostro principale mezzo di locomozione. Potranno anche fiutare dei tesori da disotterrare e potranno nuotare verso zone che saranno altrimenti difficilmente raggiungibili. Inoltre, incontrando lungo le mappe degli adorabili cuccioli di Chocobo, ci saranno indicate delle stazioni dissestate da ripristinare. Una volta fatto, diventeranno dei punti di viaggio rapido. Abbiamo potuto osservare, senza però poter approfondire troppo, anche l'introduzione del crafting. Questo, da quanto visto, sarà piuttosto basilare. Era possibile ad esempio raccogliere oggetti in giro per la mappa, come piante o parti di animali, per creare pozioni di cura e altri oggetti. Dobbiamo dire che a livello tecnico Robert ci ha colpito e impressionato davvero in positivo e fa sentire lo stacco generazionale rispetto alla versione PS4 di Remake. Il fatto che sia pensato per girare solo sulla next gen o la current gen, se volete, ha giovato molto alla direzione dello sviluppo, con notevoli miglioramenti sia sulle texture che sulle animazioni e sugli effetti speciali visti in battaglia. Un'ora passata in compagnia di Final Fantasy VII e Robert è troppo poco per poter comprendere fino in fondo tutti i cambiamenti di questo secondo capitolo della trilogia. Quello che abbiamo visto della storia ci è piaciuto, ma non è ancora abbastanza per avere un parere scolpito nella pietra. L'esplorazione sembra interessante, ma c'è ancora molto da scoprire, mentre l'unica certezza è che il combat system è rimasto ottimo, come nel remake e anzi è anche migliorato. La data di lancio si avvicina sempre più e non vediamo l'ora di scoprire come verrà trattata questa seconda parte delle avventure di Claudio e dei suoi compagni, nella speranza certo di avere tra le mani un gioco che sia degno del nome che si porta dietro, soprattutto a livello di trama. Ciao! 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 Ciao!